Forse non è male st'idea qui, possiamo svilupparla Bisogna raccontare esattamente come è nato Se la cosa non è proprio fatta a regola d'arte è meglio non farla E infatti non la facciamo Adesso io ti riprendo Però non è bello, non è un bel suono, è sporco Però è un mixer che udiamo quindi E nell'indecisione di due suoni che ci piacevano entrambi Abbiamo detto vabbè, nel primo disco usiamo questo e questo lo teniamo da parte Le cuffie bisogna sempre prenderle dietro Fai così dalla console Devi metterlo bene Dopo aver fatto per 25 anni col vinile E dopo che per qualche anno col cd E adesso passi alla chiavetta Ci può anche stare che fai qualche domanda Uscirà con una delle etichette dance più forti che ci sono Perché parliamo della CR2 Tra l'altro il progetto poi è integrato da una versione in più Che è quella di Christian Marchi Sgrillettalo Lui ti fa vedere sopra tutta la griglia Così è in chiave scherzosa questa cosa qua Non la vedo io in bagno Non è anche finito, già venduto Non è anche finito, già venduto Grazie a tutti